Formazione e lavoro in provincia di Avellino si espande il progetto dell'agenzia Formamentis che dopo battipaglia in Napoli e buona parte del sud Italia ora investe anche sul capoluogo irpino. Ieri l'inaugurazione della sede in via Moccia alla presenza del presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio, un'agenzia accreditata dal 2014 che opera con un progetto innovativo seguendo tutto il percorso dalla formazione scolastica fino all'inserimento nel mondo del lavoro fornendo servizi specializzati che possano agevolare l'incontro tra domanda e offerta. Tirocini all'estero abbiamo circa 2000 ragazzi che partiranno nel sud Italia verso il Belgio, verso l'Inghilterra, l'Illanda, la Spagna e la Francia e Malta. Sono le sei mete verso cui accompagniamo i ragazzi. Nei settori che sono diciamo quelli tipici del sud, l'agricoltura, l'agroindustria, il turismo, il food abbiamo anche qualcosa di metalmeccanico insomma un po' in tutti questi settori. Perché la scelta proprio di investire su Avellino? Perché è un territorio che a differenza di quello che si può pensare o si immagina è favorevole per un tipo di investimento del genere. C'è richiesta di lavoro, come diceva prima il presidente, c'è volontà di lavorare. Quindi la scelta è stata mirata a questo. Il fatto che ci sia anche qui ad Avellino è per noi un segnale importante di riconoscimento per questa città che può investire e deve investire sulla formazione, deve investire sul fatto che qui tanti talenti possono essere utilizzati.